Ciao a tutti, ben ritornati in questo nuovo video. Oggi sbacchetterò questa LOL e speriamo di non trovare un doppione perché è già un po' di volte che spacchetto LOL sul canale. Beh, iniziamo subito allora. Ok, eh già, ho fatto la cipolla. Non vuole essere aperta questa LOL. Qui c'è la carta che buttiamo via. Qui c'è l'indizio che è una lampadina con una freccina in su. E sotto c'è scritto GLOW UP e questo qui è anche uno sticker, quindi si può attaccare dove si vuole. Passiamo al prossimo strato. Uffa! Pensavo di averlo fatto bene. Seconda chance riuscita! Voilà! Questi qui sono gli sticker. Tanto questo qui lo mettiamo qui nella bolla, ok. Facciamo l'altro strato. Ok, ce l'ho fatto. Ho fatto anche qui la cipolla, però. sarà ultra rara visto che non vuole essere aperta. Ok, ce l'ho fatta. Qui c'è la pellicola. Prova ad aprirla. Ok, ce l'ho fatta. Voilà! Questa la buttiamo. Questa volta è rosa un po' più chiaro. La bolla la mettiamo da un'altra parte. Qui c'è il booklet che già conosciamo, ma lo lasciamo qui per vedere dopo come si chiama. Le istruzioni non ci servono. E qui ci sono tutti quanti i sacchettini. Partiamo da quello più fine, diciamo. Oh, bello! È una reginetta, allora, questa. Ok. Come se che c'è qualcosa? Ah, il vestito. Oh! Bello! Tutto rosso, bianco e nero. Ah, giusto, dobbiamo togliere il manichino. Qui c'è il biberon. Qui c'è un altro sacchettino. Sono volate le scarpette. Eccole qui. Ora anche queste. Anche questa qui la buttiamo via. Sento due codini grossi. Bella! Sembra come la regina di cuori. Adesso questo qui buttiamo via. Anche lei ovviamente in spaccata. Vediamo come si chiama la nostra LOL. Si chiama Heartbreaker. Eccola qui. Molto, molto, molto bella. E la vestiamo. Sì, sì, è la regina di cuori questa qui. Infatti tutta rossa. Proprio i colori della regina di cuori. Una e due. Preparata la nostra Heartbreaker. Davvero molto, molto bella. E la mettiamo insieme alle altre. La mia famiglia di LOL si sta allargando. Questi qui. Mettiamo tutto qui dentro. Spero che questo video vi sia piaciuto. Se vi piace la LOL che ho trovato, lasciate un bel like. E se volete altri video in cui spacchetto le LOL, scrivetelo nei commenti. E ci vediamo al prossimo video. Ciao!